Musica Salve a tutti ragazzi bentornati sul canale di quel tale Ale eccoci qui di nuovo con SimCity riprendiamo con la nostra cittadina zona industriale stavamo cercando, ci eravamo lasciati l'ultima volta stavamo cercando di accumulare un fottio di petrolio per poterlo rivendere in modo tale nell'arco di una giornata quindi abbiamo fatto depositi commerciali di petrolio ovunque vedete adesso sono quasi tutti pieni sono tutti pieni mi sembra perfetto in modo tale da poter cercare di riuscire a fare 800.000 di utili al giorno in modo tale che ci sblocchi l'obiettivo per poter costruire il deposito per la benza che poi, perché questo è ancora piccolino quindi se riusciamo a fare una cosa del genere adesso abbiamo approntato questi depositi commerciali aspettiamo di arrivare verso mezzanotte in modo tale da settare tutti questi per la vendita del giorno dopo perché ricordo che parte sostanzialmente questo vedete quando dice che nell'arco di un giorno te lo calcola dalla mezzanotte alla mezzanotte successiva quindi calcola proprio lì quindi se dovete fare una cosa del genere fatevi il conto quando arrivate proprio alla mezzanotte di un giorno magari mettete in pausa mettete questi in vendita e da lì li calcola non è il 24 ore random cioè da quando iniziate a vendere è proprio 24 ore di orologio della cittadina perfetto quindi qua intanto c'è un grattacielo le case sono ancora un po' piccoline in realtà io spero che aumentino perché comunque come detto nello scorso video c'è stato un calo demografico pauroso di 14.000 abitanti nonostante comunque le zone residenziali siano sempre le stesse le case siano bene o male aumentate qui si è una casa che va a fuoco da settimane sembra la stessa ma né si spegne né si demolisce vabbè fuoco perpetuo non fa niente vabbè vediamo di arrivare adesso a mezzanotte abbiamo un fottio di soldi comunque stiamo accumulando un bel po' di moneta che tra l'altro non ci servirà niente se comunque il nostro obiettivo qua va a fuoco tutto vacca puttana qua ci stavano iniziando a costruire grandi ah è zona commerciale poi abbatti abbatti che c'è frega abbatti anche questo abbatti anche questo vai attenzione adesso lo metteremo in pausa proprio per cercare di venderlo a ridosso della mezzanotte così ci facciamo un po' di moneta giusta per arrivare agli 800.000 di utile vediamo se ce la famo sono pieni questi sono pieni anche loro quindi siamo proprio infatti non stanno più vai adesso si parte allora pausa riprendiamo tutti i depositi commerciali mettiamo di esporta esporta esportiamo di tutto di più dove erano gli altri adesso è notte quindi non si vedono spero di non dimenticarmene qualcuno e questo qui ok vai iniziate a vendere a bomba proprio ok ok vai vai vendete vendete certo se avevamo tipo delle navi per quello ci voleva il deposito commerciale grande perché quello può collegare ferrovia navi e fare un fottio di moneta però vabbè ci accontentiamo di questi vediamo se riusciamo comunque a smandrappare tutti questi barili me li stai vendendo maledizione dai dai cazzo questi poi vuoi un altro camionetto magari che me li vendi più velocemente se ce la fai vai questi altri ho visto che non si potono mettere se non sbaglio altre camionette o forse sì maledizione se magari riusciamo a a velocizzare la cosa spero che non qua c'erano ok questi qualcosina abbiamo venduto poco in realtà eccolo stanno vendendo un altro si vede che sta calando il livello del petrolio in un barilotto quest'altro mi sa che già ce l'avevamo messi questo infatti ne ha venduti un po' di più va bene adesso si dovranno riempire speriamo si riempiono continuano a vendere riempiono continuano a vendere eccetera eccetera tanto anche questi hanno ripreso perché giustamente sono ripartite le consegne verso i depositi vai ce la faremo secondo me no però ce l'abbiamo provato questo è il massimo che potevamo fare magari fare qualche altro deposito non lo so però questo già li ha venduti tutti adesso prima che si riempie il problema vedete che sono lenti nel riempirsi perché adesso questi sono già vuoti va bene nel frattempo facciamo un po' di pulizia con il nostro demolitore edifici abbandonati dove sono gli altri edifici abbandonati a parte quelli che vanno a fuoco ah ok questo qui era anche bello massiccio qui sopra non c'è niente sta villa tasse alte ma per favore avete i soldi dai guarda qua avete una zona con questo parco così billoni dai vorremmo tornare a scuola prendi la macchina e vai scusa c'è lì la scuola dietro cioè tu vai verso il deposito della benzina e di fronte c'è la scuola non puoi non trovarla questi sono vuoti perché ci vuole troppo tempo per riempirsi quindi non fanno in tempo a riempirsi 6.000 barilli li vendi subito infatti sono già tutti vuoti però siamo comunque balzati a 403.000 però altra metà non ce la faremo mai quindi abbiamo capito che dovremmo avere il doppio di depositi commerciali di depositi del petrolio che adesso sono 6 no 5 altri 4 almeno secondo me ce ne servivano per per riuscire ad arrivare a quell'obiettivo pieni perché vedete non non fanno in tempo a a riempirsi per poterli vendere neanche questi che stanno qua cazzo ce l'hai di fronte questi un po' di barilli ce li ha li carichi e li porti no non gliela famo non gliela famo ce l'abbiamo provato ce l'abbiamo provato abbiamo fatto un po' di soldi magari però 800.000 non non è proprio proponibile quindi direi che non non ce la facciamo a meno che come detto non facciamo una città dedicata solo allo stoccaggio di sta roba iniziamo a vendere sti cosi però ci serve comunque questo certo dovrebbe stare nella regione quindi dovrebbe valere lo stesso anche se sta in un'altra zona però non so fino a che punto se poi salvo in una città arrivato in un'altra per vedere quanto ho venduto boh non so se funge non lo so sinceramente qui il deposito commerciale vedete continua a vendere però questo comunque ne accumula 100 per quello sarebbe utilissimo farlo perché con questi veramente di benzina ce ne possiamo mettere 6.000 barili che minchia ci fai con 6.000 barili maledizione eh no non gliela famo non gliela famo direi che possiamo anche demolirli perché un altro tentativo non ci esce dovremmo secondo me fare un'altra città dedicata solo allo stoccaggio magari ditemi anche voi cosa ne pensate faremo una città dedicata a parte che la in teoria la dovremmo fare lo stesso perché comunque poi per costruire la meraviglia ci vorrà una città dedicata allo stoccaggio di tutte quelle risorse perché sennò dove le mettiamo richiede una quantità spropositata di roba quindi da qualche parte dovremmo pur metterle siamo arrivati quasi a 500.000 ma ci vorrebbero troppi cose commerciali quindi troppi troppi magazzini commerciali vabbè pazienza adesso li li svenderemo un po' intanto non ci servono tutti questi siamo riusciti ad arrivare a 518.000 però quindi altri 4 dai con 3 si rischiava ma con altri 4 avremmo potuto vendere petrolio necessario non mi sembra caso adesso demolire un po' di zone per fare sta cosa chi se ne frega a sto punto vabbè è andata demoliamo sti cosi va via si ne basta uno lo sprechiamo risorse via questo basta e avanza vabbè allora niente adesso stiamo in stallo dobbiamo aspettare non so cosa magari riapriamo questo è il deposito di benza e poi secondo me a sto punto veramente già conviene andare in un'altra città perché qua non c'è più spazio per fare niente l'unica soluzione è fare un'altra città con un po' di depositi magari dovremmo dare un affottio dei nostri soldi per fare depositi in teoria sarebbe perfetta la sfigas perché non c'ha nessuna quasi nessuna risorsa però demolire tutto adesso ci costerebbe ancora di più perché queste comunque ce l'hanno un po' riso carbone questa c'è un fottio di petrolio questa c'è un bel po' di minerali quindi poi se ci rimettiamo a trivellare un'altra volta siamo a capo tale city ha bisogno di carbone vabbè comunque la zona industriale macina abbastanza velocemente cioè abbiamo tutte queste risorse che giustamente pian piano finiranno perché finiranno il carbone piano piano si sta prosciugando i minerali ce ne sono ancora un po' e il petrolio dai cioè dai perché se avevamo dei depositi così potevamo accumularne parecchia di roba ma così non usciamo proprio qual'è il problema serve un lavoratore ok nel frattempo però magari portatemi un po' anche qui cercasi personale abbiamo 25.000 abitanti che evidentemente sono pochi ma non possono venire anche dalle altre città magari cioè zone residenziali ce ne sono quindi questa non è da battere la vediamo un po' scura voglio città più grandi voglio la paccio con città più grandi per forza cerchiamo di ammassare più sui impossibili in ogni caseggiato esatto mi avete letto nel pensiero proprio mettetene uno sopra l'altro perché se no non gliela fanno ci serve personale deposito di plastica è pieno infatti la plastica non la posso portare da nessun'altra parte ma questo che fa con la benza me la tiene ok si tienimela un po' poi magari la iniziamo a vendere vediamo vediamo un po' come organizzarci magari per adesso in questo gameplay poi vediamo nel caso dal prossimo gameplay a questo punto ci facciamo un'altra città ragazzi che dobbiamo fare non abbiamo spazio per fare nient'altro qui ci serve moneta ma qua stiamo continuando a trivelare magari continueremo a trivellare tutto però non abbiamo spazio per fare ci serve un deposito ci serve una città deposito quindi magari andremo a battezzare un'altra cittadina magari quella là sopra dove c'è anche un po' di questa qui dove ci sono anche un po' di minerali e un pochino di petrolio giusto così vediamo com'è anche se mi sembra un po' tanto montagnosa per poter costruire un po' di cose questa invece è bella pianeggiante però anche questa potrebbe essere sfruttata per quanto riguarda il petrolio vedremo vedremo comunque credo che dalla prossima dal prossimo gameplay dovremo organizzarci in un'altra città perché qui come detto non possiamo fare moltissimo ecco la benza siamo arrivati a bomba vendila sti chazzi vendila esporta vai almeno ci continuiamo a fare un po' di soldi poi ci organizzeremo per costruire la meraviglia se ci riusciamo a costruire perché e poi più avanti magari una volta fatto questo se riusciremo a fare in tempo e se non ci saremo stufati potremo fare anche una regione più grande o magari aspettare informazioni sul fatto che se faranno meno città più grandi però una regione più grande dove ci saranno magari più città invece di qui ce ne sono tra virgolette poche anche se comunque noi stiamo andando abbastanza a rilento quindi ne abbiamo fatte solo tre però magari quando ce ne saranno di più uno faremo una cosa più veloce per fare magari più più grandi opere invece di una sola però per adesso ci dobbiamo accontentare di questo e niente per il resto qua stiamo messi abbastanza bene a livello più o meno elettrico acqua va benissimo però adesso è pulita vedete allora è perché qua pescavamo un po' dell'acqua zozza e anche da un'altra parte che non mi ricordo dove era forse qua sopra si adesso stiamo messi bene a livello di depurazione smaltiamo tutto là e poi ce la ribeviamo perché qua la rigaccia perfetto dettagli ah il comune possiamo migliorarlo il municipio migliora 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 tanto comunque non costruiamo niente perché non ci serve niente grazie siamo a posto così per il resto stiamo parati mi sembra dai pompieri a parte qualche caso di incendio clamoroso come questo qui che anche sta andando avanti da ore ormai salute non stiamo forse benissimo non so io avevo fatto tutte le grandi opere alla sfiga ma costano veramente troppo qualcuno mi aveva detto anche di fare la centrale dei pompieri della polizia e l'ospedale di quelli grandi ma costano troppo non ne vale la pena quindi preferisco fare questi piccolini e tanto comunque come detto ecco adesso siamo risaliti a 30.000 abitanti almeno questo vabbè per il resto a sto punto direi qua non lo so oggi facciamo costruire delle case almeno ottimizziamo lo spazio qui c'era una zona industriale che poi ho demolito con il coso zona industriale la richiedono ma questo è giovini non è che possiamo fare altro magari piazzatevi qua che vi devo dire zone residenziali stiamo a bomba non massimo possiamo metterne altro po' qui e vabbè qua una casa ci esce però va bene magari qua non lo so quanto è il terreno ah no qua va bene dai senza che ci facciamo un parco che andiamo solo a fregare spazio siamo a 5 milioni quindi soldoni ne abbiamo a livello di entrate vabbè a parte che noi le entrate sostanzialmente ci basiamo sul commercio però non perdiamo neanche tanto anzi stiamo riaumentando grazie anche all'aumento della popolazione finalmente ok come non detto vabbè io direi che a sto punto anche se il video è un po' più corto dell'altra volta però ci possiamo salutare perché come detto non c'è nient'altro da fare ragazzi c'è solo da temporeggiare e magari aspettare di accumulare un po' più di soldi e fondare una nuova città per depositare un bel po' di roba accumulare della robaccia che per adesso non riusciamo a vendere e vabbè noi ragazzi allora ci vediamo con il prossimo video con la nostra cittadina industriale e io vi ringrazio per aver seguito questo video mi raccomando mettete sempre un bel mi piace commentate e ci vediamo con il prossimo un saluto a tutti da Qualtaleale